TANGORRA TANGORRA Bello lo spettacolo che stanno offrendo i tifosi del Lecce sugli spalti che sperano di poter gioire per questo calcio piazzato in favore dei loro Beniamini formato la barriera, Pisseri sul pallone, Moscardelli tutta con il sinistro e l'epore con il destro, il gol di Davide Moscardelli Lecce 1, Monopoli 0 è calciato molto bene, è un sinistro che addirittura non si è insaccato alto ma si è insaccato basso perciò la calciata con la forza giusta da passare la barriera poi si è abbassata qui vediamo niente da fare anche se dobbiamo dire Pisseri ha sfinto molto ma la palla era molto angolata, calciata perfettamente questa punizione da giocatore di un'altra categoria Davide Moscardelli secondo gol per lui quest'anno e sono 32 in totale in Lega Pro ma Moscardelli ne ha realizzati anche 12 in Serie A e ben 75 in Serie B Eh sì, questo è un gol calciato con grande qualità ci vuole qualità, ci vuole piedi calciato veramente molto bene Beh vi avevo detto di Braia come era teso perché il gol non arrivava al momento del gol i paradossi del calcio è rimasto come un pezzo di ghiaccio e adesso... mentre la sua panchina è saltata, è scattata in avanti in campo tutti a festeggiare sì, adesso conoscendolo si diventerà di nuovo un leone in gabbia perché vorrà il secondo gol è un gol.